Perde il controllo della vela e si schianta contro il muretto di un'abitazione a Borso del Grappa. È vivo per miracolo il pilota tedesco che questo pomeriggio, a causa del forte vento, è precipitato nel cortile privato di una casa in via chiesa. La perdita di quota è poi un forte boato. Dopo la violenta caduta, il pilota ha perso conoscenza ed è stato immediatamente soccorso dal suo eme di Crespano, allertato dai proprietari dell'abitazione. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso di Castelfranco per un trauma cranico, oltre che al ginocchio destro.